esperimento 1a allora vogliamo provare a lanciare quel pezzo di legno per verificare se esattamente il ghiaccio ha tenuta qua alle riprese andrà Dario Tomasoni al lancio i ranelucchetti quindi procediamo verso l'esperimento se vuole comunicare qualcosa adesso proviamo perciò a vedere se riusciamo a sbattare il ghiaccio vada vada allora abbiamo notato che il ghiaccio è rotto quindi è meglio se prima ci prova l'Irene ad attraversarlo poi magari se sopravvive provo io l'Irene vuole provare no? un attimo mi preparo prossima volta si prepara l'esperimento 2a prossimamente